Carissimo Don Guido, per me tu sei come un padre. Le tue parole, piene di sapienza, mi hanno aiutato molto a scoprire la bellezza del mio sacerdozio, essere sacerdote come Maria, la passione per la Chiesa, per una Chiesa comunione, per una Chiesa che si dona a tutti, il sogno della fraternità universale. L'hiver s'en estallé, l'hiver s'en estallé, et les vignes en fleurs, exhalent leur parfum. L'hiver s'en estallé, chante la tourteraino, mon bien-aimé m'appelle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.